E bella a tutti, qui è sempre il solito Gerdo che vi parla. Come state ragazzoli? Spero tutto bene. Settimana scorsa ho fatto uscire il video Il Mio Pensiero su FC24, cercando di farvi capire il più possibile appunto il mio pensiero su questo gioco. Inizialmente non era programmato, però ho visto che nei commenti mi stavate dicendo la vostra e c'erano dei commenti anche molto intelligenti e molto buoni e mi sarebbe piaciuto confrontarmi con voi. Di solito noi in Content Creator ci limitiamo a dire commentate qui sotto le solite cose, che poi è importantissimo perché almeno io li leggo sempre tutti. Ma questa volta, dato che è un argomento di cui si può parlare, ho deciso di fare un video con il vostro pensiero su FC24, rispondendo ai vostri commenti e scambiandoci due parole. Mi raccomando, se vi piace questa idea lasciate un like perché è una cosa interessante che secondo me potrebbe essere utilizzata anche per altri format. Il primo commento recita questo, chiedo poche cose, un gameplay più fluido, partite più veloci, molta meno CPU e premi migliori, magari anche un inserimento della Top 200. D'accordo al 100% con quello che hai detto, della Top 200, della CPU e dei premi migliori ne ho parlato anche nel video. Per quanto riguarda il gameplay più fluido, allora, a me tilta tantissimo che vai a giocare la Weekend League, c'è un tipo di gameplay, vai a giocare in Rivals ed è già più lento, poi te vai a fare le amichevoli e ritorna ad essere più veloce, a me sta cosa mi fa tilta tantissimo. Ma questo dipende anche dalla distanza ai server e dalla connessione che abbiamo. Io ho la fibra misto rame, faccio 80 di download e sto a Roma, mentre i server stanno a Milano, quindi pingo sui 25-30. Oltretutto sto sempre in stream quando gioco, quindi ho spesso delle perdite di pacchetti. Oltre a questo dobbiamo aggiungere anche il traffico ai server e ovviamente più gente gioca più il gameplay sarà macchinoso. Ma io vi assicuro al 100%, ragazzi, che rispetto anche a 3-4 anni fa è cambiato tantissimo. Io mi ricordo quando iniziai a fare le stream non volevo mai giocare la Weekend League il sabato pomeriggio, soprattutto perché era impossibile. Poi c'erano i server di Francoforte, perché Milano ancora non l'avevano fatto, e beccavi i tedeschi con la Gigabit. Andavano 10 volte tanto, ed era impossibile. Questa cosa la risolveresti tranquillamente ampliando i server. Certo hanno un costo, ma l'Italia è lunga. Se tu mi metti i server a Milano, in Calabria, in Sicilia, anche in Campania, come cazzo fanno? Ci avrebbe avuto più senso metterlo a Roma, che è al centro, perché poi ci si connettono anche i turchi. E quando li becchi devi fatti il segno della croce perché ti lagga tutto. Ma queste sono scelte che non ci riguardano e non ce ne possiamo fare nulla. Per quanto riguarda i commenti lunghi, ragazzi, vi do il succo, in caso mettete pausa e leggete. Questo ragazzo dice che gli sono piaciute le novità, i playstyles, le Evo. Dice anche giustamente che il gameplay è difficilissimo da sistemare, basta guardare i football, le UFL e sono d'accordissimo con lui. E poi parla anche un po' del drop, rit e del meta. Innanzitutto sono d'accordo con te sulle novità, ma le Evo, per quanto siano interessanti, mi hanno deluso. Tutti i giocatori Evo, ragazzi, tutti quanti sono divertenti perché magari, che ne so, a te piace Bove, ti evolvi Bove e magari ti arriva a 92 e lo puoi utilizzare. Se non fosse però che le statistiche sono fake. Penso il 90% dei giocatori di evoluzione non rappresenta le sue statistiche. Basti pensare all'ultimo giro all'evoluzione che arriva a 94 ed un giro a 94, ragazzi, se dovesse uscire sul mercato costerebbe roba di 3-4 milioni. E questo lo facevi con 100k? Non è una sega, ma è secondo me al limite dell'utilizzabile. Cioè, te fai hard da culo e, regà, è meglio. Ma giustamente te le fanno così, perché se tu con 100k puoi avere un giocatore da 4 milioni, allora che se shoppa fa? Io non dico che devono essere tutti quanti forti, ma almeno non ci prendete per il culo, dateci le statistiche reali e fatele i giocatori normali. Per quanto riguarda il meta, frate, è totalmente una questione di adattamento al gameplay. Il gameplay ti permette di fare delle cose e tu le fai. Il meta è sfruttato e ricercato dai pro player, che poi ci fanno il video. Ovviamente queste cose le faccio anche io. Dopo, la gente che lo guarda cerca di replicare. Ma a prescindere dai pro player, il meta delle palle alte è perché non si riesce a giocare centralmente, perché la CPU è troppa. Quindi si cercano soluzioni alternative. E come lo fanno i pro player, dato che anche il casual player non riesce a giocare, allora a quel punto sfrutta queste meccaniche. Ma tutta questa CPU, questo tipo di gameplay, c'è perché ai tempi il casual player si lamentava che non riusciva a difendere, non sapeva difendere e prendeva tantissimi gol. Eh, so partire Dennis, so partire Dennis. Imparate a difendere, ragazzi. Perché la difesa adesso è stata parecchio aiutata, ma è la parte comunque più difficile di questo gioco. Doveva esserci anche il villain che dice, quittare sul pari è un diritto sacrosanto. Di solito va così, stai sul 4-0, non quitta, poi aspetta che si giri lo script, lo fa perché sa che succede, dato che rispetta, tu uno studente, lavoratore, ci può stare attaccato 16 ore al giorno, arriva al 4-4 perché ovviamente succede quello che aspettava. Io quitto perché non pareggio per merito, ma per software programmato con i piedi manco buoni, e infine dice che il UFL ha messo il game loss sul pari. Rispetto la tua opinione perché ognuno ha la sua, ma mi dispiace nulla di quello che hai detto secondo me ha senso. Intanto game loss per il quit sul pari di UFL non ha senso, perché game loss è partita persa e anche su FC24 se io quitto sul pari prendo la partita persa, dovrebbe dare la vittoria all'avversario. Credo sia questo che intendevi tu. Per il quittare sul pari è un diritto sacrosanto, non ci può essere cosa più sbagliata al mondo. L'esempio che mi fa è che stai vincendo 4-0, quello ti fa il 4-4 e quitti, è bruttissima come cosa. Tu stai vincendo 4-0, il tuo avversario si fa un bucio di culo per rimontarti e tu quitti. È questo che rende la community tossica. Non è che lui sfrutta i bug, perché se vi riferite al video di Mike Shosha, regà quella cosa è obrobriosa, non è mai vero che se tu vai sotto dei quattro gol e dopo è più facile farne altri quattro, non è mai vero. Solo che quello si è impegnato a 2.000 per cercare di recuperarti e tu invece stavi così, sì 4-0, la partita è finita e hai sottovalutato la situazione. E se tu quitti prendendo dire la sconfitta, facendola rigiocare a lui, allora sei una merda, ci sta poco da fare. Perché poi abbiamo perso entrambi 15 minuti della nostra vita, quando tu magari c'hai solo un'ora per giocare. In giochi seri, se fai una cosa del genere, ti danno il ban, io gioco a League of Legends, frate, se io quitto una partita, mi danno un giorno e ban, per un giorno non ci posso giocare. Vuoi quittare? Perfetto, prenditi il ban, così i giocatori tossici giocano de meno. Ma ripeto, basterebbe dare la vittoria se l'avversario quitta e si risolverebbe tutta sta situazione. Perché la gente non quitterebbe sul 4-4 sapendo che così dà la vittoria all'avversario. Woody continua il discorso dicendo che i quit sono aumentati in modo esponenziale perché la gente si è rotta il cazzo per di vedere tutte le persone che giocano con i bug, con le meccaniche rotte, con lo script, con i giocatori che vanno a 2-0 mentre quell'artieria stanno fermi. Ti dico una cosa Woody, la cosa che dici non è sbagliata. Magari tu ti vuoi fare quell'auretta al giorno dove ti fai quelle 5-6 partite dove ti rilassi. Ma se ti vuoi rilassare su questo gioco allora non puoi giocare la Weekend League. Ma ultimamente neanche le rivals perché tu non puoi entrare nella testa degli altri cristiani. Magari tu stai in divisione 1 ti vuoi solo rilassare e magari trovi quello che va a 2-0 che sfrutta ste meccaniche perché vuoi arrivare in divisione Elite. Ma uno non si può lamentare sta cosa né può quittare sul pareggio perché è proprio frustrante. Uno dei problemi di questo gioco è che non c'è un sistema di matchmaking appropriato. La Weekend League secondo me per fare una Weekend League più omogenea più utile per tutti quanti sarebbe meglio dividerla per divisione. Chi sta in Elite fa la Weekend League con quelli in Elite Divisione 1 Divisione 2 fanno un'altra Weekend League Chi sta a divisione 3 Divisione 4 un'altra Weekend League e così via. Così è il polo Cristo che se vuole rilassare in divisione 7 non va a beccare in Weekend League uno che gli fa 16 gol che sta in Elite. Se io a LOL sto ad oro non vado mai a beccare chi sta a Grandmaster cioè i pro player non li vedo proprio e così dovrebbe essere perché così chi vuole competere compete se vuole rilassare si rilassa. Obliviontes invece ci delizia con un messaggio tanto lungo quanto giusto che vi invito a leggere tutti quanti io ve lo riassumo mi taglia pure metà capoccia da quanto è lungo che è quello che ha detto lei. Si sfoga dicendo che lui è un giocatore che comunque sia è bravo perché sta in Elite fa tra i 700 e i 900 punti e poi fondamentalmente si lamenta dello script le solite cose che la CPU magari aiuta più uno che l'altro uno fa 250 di l'altro ne fa uno e segna insomma le solite cose e sono sacrosante sono giustissime ma ti dico una cosa non per darti contro perché queste cose ripeto sono giustissime forse è l'unica cosa su quale tutta la community è d'accordo ma tu giochi in Elite a 700 900 punti cosa che non tutti quanti raggiungono certo adesso è un po' più facile ma non tutti quanti ce la fanno quindi stai anche a un buon livello e qui parliamo dello script dicendo che o sei tanto 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 più forte del tuo avversario o lo script lo senti perché io che vado a fare magari 20-0 in Weekend League dopo becco magari quello che fa 14 e può capitare che ce perdo se vuoi andare a vedere il video di ieri della Weekend League vi mettete le mani tra i capelli perché le partite scriptate almeno 2-3 a Weekend League ce stanno e tu la devi essere tanto tanto più forte del tuo avversario o hai buone probabilità di perderla e tu stando a quel livello di 700-900 punti devi impegnarti il doppio per raggiungere il tuo obiettivo perché stai già in quella categoria di giocatori che sono bravi quando becchi ste partite devi avere la testa per andare al doppio del tuo avversario e dello script perché quando è così se gioca 2-1 io ormai neanche me lamento più di tanto di queste cose del genere certo Rosico ma ho giocato competitivo da FIFA 18 a FIFA 22 e quello che ho visto anche alle qualifiche ragazzi è una cosa imbarazzante ma basta guardare al competitivo per capire che sono sempre le stesse cose per concludere dato che non possiamo fare niente riguardo allo script perché esiste praticamente la FIFA 13 l'unica cosa che possiamo fare è diventare più bravi in modo da vincere anche quelle partite piene di script Outflow dice una delle cose più giuste che vi abbia mai sentito è quello che dico anche io nel video precedente che questo gioco questo gameplay sono fatti per incollarti al joystick senza cercare un vero e proprio scopo solo fatta e sta là è praticamente una trappola per topi si prova di tutto per far competere anche chi è meno bravo e ripeto non è un caso che chi sta in divisione elite ad oggi non è che ti fa livello 1 livello 2 ma ti fa dall'11 al 14 però puoi dire sto in divisione elite sono bravo posso competere posso sperare di competere e lì vai a giocare di più e lì continui a sfruttare le meccaniche che ti fanno vincere di più e questo fa sì che il casual player che vuole rilassarsi torniamo al discorso se non per cazzo del giocato Easy anche dice delle cose molto giuste di cui abbiamo già parlato ma quello che mi sono ricordato è il punto 8 gli errori che hanno fatto ad esempio con Messi Toti e i Tots della Ligan che davano praticamente al 100% un vapeo dembele o zero e me li ci sta l'errore ma avrebbero dovuto fare qualcosa invece di far finta di niente è sacrosanto quello che hai detto aver fatto finta di niente è veramente una grossa grossa perdita dal punto di vista della comunicazione con la community ovviamente non è che avrebbero potuto continuare a fare questa cosa cioè quel pick aveva un drop rate troppo elevato di Messi e giustamente non potevano regalare Messi al 50% della community come non potevano neanche regalare a tutti o Mbappé o Dembélé o Zeré Marie ma potevano perlomeno chiedere scusa e dare che ne so un pacchettino i pick della Weekend League invece darne due ne davano quattro per avere più possibilità di trovare roba quello che fanno come lo fanno sembra proprio che te vanno prende per il culo a me sta cosa mi urta perché poi dal punto di vista della comunicazione fanno meno di zero UFL raga ha fatto una beta ci ha detto 250.000 cose ci ha fatto 250.000 domande ci ha chiesto cosa ne pensavamo ci ha preso tanto in considerazione cosa che la EA da anni non fa chiudiamo con un ultimo messaggio di Poundhead che questa volta dice una cosa giusta questo messaggio è giustissimo e vi invito tutti quanti a leggerlo dice anche tante cose che ho detto sia in questo video sia nel video passato il fatto che ci sia un divario molto ampio tra chi può giocare di più e chi può giocare di meno è vero hanno più tempo per capire le meccaniche per sfruttare il gioco eccetera ma non puoi fare due categorie ben distinte perché tu devi dare la possibilità a tutti di poter competere a livelli alti ma non puoi iniziare subito facendo così tu devi iniziare competendo con la gente al tuo livello per questo sarebbe giusto ripeto fare una weekend league divisa per divisioni ma non posso neanche essere vincolato a giocare magari in una determinata divisione perché magari io a gennaio decido che voglio diventare un pro player e devo devo avere la possibilità di farlo scalando appunto le divisioni trovando man mano gente più brava che mi permetta di migliorare perché per migliorare ragazzi ci vuole tempo e pratica e io vi assicuro raga vi assicuro che tutti quanti voi tutti quanti potete farlo ora non è per sponsorizzare i coaching ci mancherebbe siamo a giugno ne faccio di meno li faccio giusto a 3-4 persone ma io con i coaching ho preso gente che da divisione 4 è arrivata la divisione elite chi stava in divisione 7 magari adesso è arrivato in 3 chi giocava chi faceva 11 in weekend league adesso fa 14 fisso e prova a fare 16 uno addirittura ha fatto per la prima volta a livello 1 questo per dirvi che è un gioco dove chi ci si mette di impegno riesce a migliorare non per forza con un coach ma se voi vi ci mettete diventate bravi come pensate che io so diventato bravo su sto gioco poi magari un giorno vi farò un video se lo volete sul mio percorso su questo gioco ma è tutto duro lavoro non deve essere il duro lavoro che ti fa arrivare negli eventi a me mi è rimasto impresso un ragazzo a cui ho fatto coaching che mi ha detto io sto in divisione 7 mi sono rotto le palle che quando vinco quando perdo la gente mi manda i messaggini e mi prende per il culo e già questo secondo me è un validissimo motivo per cercare di migliorarsi perché è tutto duro lavoro ma ci possono riuscire tutti da quello che ha 8 anni a quello che ce ne ha 60 ragazzuoli il video sta per finire perché è durato anche abbastanza ho letto tutti quanti i commenti e ho preso quelli che mi sembravano più interessanti per il video secondo me questo con i vostri commenti potrebbe essere un bel format magari anche con le top 10 cosa ne pensate fatemi sapere qui sotto nei commenti noi come al solito ci vediamo tutti i giorni a mezzogiorno in live su Twitch alla prossima e bella regà a mezzogiorno a mezzogiorno a mezzogiorno Grazie a tutti.